L'obiettivo è di aiutare il club individuale a fare il migliore possibile. Ho girato tante squadre, però ho visto che solamente tre squadre, con tre squadre che faccio più di 100 presenti, che sono l'Inter, purtroppo l'Inter e il Paris Saint-Germain. Comunque è un traguardo grande, importante. Grazie ragazzi, è tutto merito vostro, grazie che non c'è concorrenza. Ciao a tutti, grazie per tutti i messaggi, 100 partite a Milan, è un grande onore, spero di fare altre tante partite, un grande saluto da parte mia, ciao! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti